Bene, sono sulla strada giusta per Riverwood, sono quasi tornato a casa E' già giorno, sono le 7 del mattino, bene, andiamo Bene amici, io sono Michele e benvenuti in questo nuovo video di Addictus2Games Come vedete sto giocando un po' stile roleplay, cercherò di non esagerare Quindi magari in alcune fasi giocherò di stile roleplay, in altre comunque chiacchierò un po' con voi Vediamo un po' Ditemi voi cosa preferite ovviamente Un po' di pesce Un salmone Carne di salmone Amo la carne cruda Mangiamola così Ci vuole Dopo quel combattimento Un po' di dromere Dovrò procurarmene dell'altro Andiamo Allora Ho saccheggiato i corpi dei miei nemici Quindi Andiamo a Ricavarne un po' d'oro Dormono ancora tutti Attendiamo un altro po' Allora Vediamo dove posso andare Commerciante Vediamo se c'è qualcuno Salve Salve Niente avventure Niente azioni clamorose Niente caccia al ladro Che hai intenzione di fare allora eh? Su sentiamo Posso aiutare? Un po' delle chiacchiere è finito Oh cliente Ti chiedo scusa per ciò che hai sentito No non ti preoccupare Non so cosa ti abbiano detto Ma l'emporio di Riverwood è ancora aperto Entra pure Cosa è successo? Sì abbiamo subito un piccolo furto Ma abbiamo ancora molta merce in vendita I ladri cercavano una cosa in particolare Un ornamento in oro massiccio A forma di artiglio di drago Eh immagino che attiri molti ladri Potrei aiutarti comunque nel recuperarlo Davvero? Ho delle monete provenienti dall'ultima spedizione Sono tue se mi riporti l'artiglio Volentieri Se hai intenzione di catturare quei ladri Devi dirigerti al tumulo delle cascate tristi A nord est della città Al tumulo delle cascate tristi Controlliamo sulla mia mappa Vediamo Non so bene dove sia Comunque ora lo cerchiamo Sì Missioni Allora Così ora non devi Per ora sospendiamo Le altre cose che dovremmo fare Comunque prima vorrei vedere Cosa è in vendita E venderti alcune cose Vediamo Ho queste robe che Mi hanno dato e non mi servono Vediamo se ti interessano Un po' di bracciali Armature Queste le ho ottenuto Da alcuni nemici Prendi pure tutto Non penso che Mi serviranno Saranno sicuramente Più utili a te Bene Grazie mille Vediamo se è qualcosa di utile Per me ora invece Non mi interessano particolarmente Le armi Perché sono più Devoto alla magia Ma io preferisco Chiamarli tesori Vestiario No non mi interessa I tuoi vestiti Non mi interessano Molto Eh questo è molto interessante Però Non posso Non ho abbastanza oro Con me Come pozioni Sisto bene Cibo Hai un po' di idromele Nulla Eh peccato Prendo una birra Libri Vediamo cos'hai Allora Atomo magico Chiaroveggenza Questo è interessante Furia Ci sono due libri Che mi interessano Morsa Gelida E Evoca Draugor Grazie Probabilmente Mi interesserà In futuro anche Furia Tienemelo da parte Allora Leggiamo un po' Questi libri No Bene Interessante Ok Mettiamolo Comunque È una magia Interessante Come interessante Anche Morsa Gelida Ti serve qualcosa? Ok Ti seguo Bene Sono curioso Di provare La mia Nuova magia Dobbiamo attraversare La città E superare Il ponte Per raggiungere Il tumulo Delle cascate Tristi Va bene Si vede anche da qui È la montagna Oltre gli edifici Ah la vedo Ok dai Fammi strada Quei ladri Devono essere Fuori di segno Per nascondersi Là fuori Quelle vecchie cripte Sono piene di trappole Trolle E chissà cos'altro Non è un problema Per me Ok Io vado Tu vieni con me Va bene Allora Mi attende Una lunga strada Controllo sulla mia mappa Voglio provare un attimo Le mie magie Si Dovrei prima Uccidere qualcuno Prima di usarlo Quindi per ora Usiamo La morsa Cerida Interessante Ok ragazzi Sospendiamo un attimo Roleplay Quale magia Preferite voi Fatemelo sapere Ho di nuovo L'acqua gelida Cavolo Va bene Arrivo a riprendermi L'artiglio Dorato Forse dovrei salire Eh sì Devo salire di là Quindi Non è la strada giusta Questa Ecco qua La scala Spero di non trovare Troppa Compagnia Cosa è successo Qui Ah sì Di qua Sono già passato io Giustamente Quindi Dovrei continuare A salire Oh che freddo Uno standard Non porta nessun Simbolo Dovrei essere Qua sei arrivato Qui doveva esserci qualcosa di Meraviglioso Un tempo Ora Devo trovare l'entrata Oh Eh Ti sto rallentando Eh mi dispiace Dammi Quel che è di valore Qualcun altro Anche tu Sei più lento ora Mi dispiace Voglio provare Questa mia magia Attendiamo un attimo C'è qualcuno Devo allenare un po' Le mie arti magiche Oh Mi attaccano Combatti per me ora Vediamo che sai fare Mi sento più forte Grazie amico mio Vediamo cos'hai Un arco Mi sarà utile Un po' d'oro Bene Mi segui Andiamo Non so quanto durerà La mia magia Eccomi qui Eccomi qui 30 secondi Quindi un solo minuto Allora Nuovo livello Bene Un bonus Eh Deve di aumentare La magica Assolutamente Un punto bonus Un punto bonus Vediamo Cosa potrei migliorare Cosa potrei migliorare Questo sarebbe interessante Però richiede 25 Ancora Devo ancora un po' Migliorare Andiamo Sei ancora vivo? Ma è passato No Addio amico mio Mi è servito bene Ora prendo la tua roba Vediamo Orsa gelida Oppure Ok Qualche animale è morto L'elfo oscuro Vuole andare avanti Fa benissimo Meglio lui che noi Che succede Si arve Due nemici Li posso abbattere Addio Ora Combatti per me Addio Dammi la tua roba Il tuo oro Oh Qui c'è una cassa Vediamo se Riesco Ad aprirla Ok Ha molto di mano Però non mi serve Penso che la venderò Al mercante Delle ragni a tele Potrebbero esserci Dei ragni Odio quegli Strani ragni Hanno troppi occhi Addio Devo migliorare la mia magia Nell'evocazione Questa mi sarà utile Addio Uh Sei forte tu Addio Sei stato abbastanza Esistente Cosa c'è qui Una leva Oh Cacchio Una trappola Seriamente Seriamente Bene Qui c'è Un problema Come andremo avanti Ci sono delle colonne Interessante Proviamo A girarle No Direi di no Qui Bisogna ragionare Un attimo Vediamo un po' Un attimo